Buon pomeriggio, ben trovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie da web della città edizione culturale. Vediamo subito che cosa ci riserva la serata. Appuntamento alle ore 21 all'auditorium dell'ingotto Giovanni Agnelli, via inizia 280, l'Accademia Monti Stregali e il colo filarmonico Ruggero Maghini di Torino per il ciclo dei concerti dell'Unione Musicale eseguono i Vespri dei Carmelitani di Endel. Appuntamento con la letteratura invece al circolo dei lettori, Donne senza guscio è il titolo del libro che viene presentato con l'autrice Luisa Pogliana. La soddisfazione e rabbia, crescita e ostacoli affrontati giorno per giorno lavorando come donna e come dirigente in una grande azienda, di cui dalla personale esperienza il desiderio di scrivere, di raccontare. Finiamo con il cinema, corti d'autore, la seduzione di Lubitsch, il film che viene proiettato questa sera alle 20.30 al Cinema Massimo in Sala 3 all'interno dell'appuntamento mensile con i più bei cortometraggi della storia del cinema. Per quest'oggi è tutto, io ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda e vi do appuntamento a domani alle ore 17. Grazie per la visione!